Qualche giorno fa i carabinieri della compagnia di Augusta, unitamente a quelli della stazione di Lentini, hanno ricevuto una segnalazione al numero unico di emergenza in merito all'aggressione di un uomo da parte del figlio quarantenne, il quale, verosimilmente in preda all'alcol, stava maltrattando il genitore. Durante l'intervento dei carabinieri, l'aggressore, con precedenti specifici, si è scagliato con calci e pugni anche contro i militari dell'arma, i quali lo hanno tratto in arresto per resistenza e minaccia a pubblico ufficiale. Dopo le formalità di rito, il quarantenne è stato associato presso la casa circondariale Cavadonna di Siracusa come disposto dall'autorità giudiziaria Aretusea. L'anziano, percosso dal figlio, è stato invece accompagnato presso il pronto soccorso dell'ospedale di Lentini, dove è stato giudicato guaribile in sette giorni.